benvenuti all'angolo di pagine d'autore una rubrica per entrare nel mondo dei libri la leggenda dell'avvinto c'era una volta un giovane che voleva vivere per sempre e per raggiungere il suo obiettivo aveva deciso di ingannare la morte il giovane che si riteneva assai intelligente scaltro aveva studiato un piano a suo dire infallibile innanzitutto dichiarò di volersi uccidere lo ripete con convinzione affinché tutti in paese potessero dirlo nella speranza che la voce giungesse alla morte stessa la notte dell'annunciato suicidio si recò quindi al cimitero e tra le lapidi scorse un mucchio di ossa in cui riconobbe la morte che lo stava aspettando come ti sei ridotta così chiese il giovane ma il cranio non si mosse di te si sono sempre narrate storie grandiose aggiunse ma di nuovo nessuna parola spezzò il silenzio la gente dice che nessuno può governare la morte riprese allora il giovane che si stava spazientendo ma tu ora sei ai miei ordini tutti sanno che io stasera volevo incontrarti per porre fine alla mia vita se dovessi morire agli occhi del mondo la morte non sarebbe altro che un animale ammaestrato che obbedisce a un piccolo padrone vuoi davvero che gli esseri umani abbiano questa considerazione di te lasciami vivere per sempre e continuerai a essere temuta come lo sei sempre stata fino a ora. Antonio Schiena torna con il suo nuovo romanzo Chiodi pubblicato da Fazzi Editore ed è un romanzo intenso e coinvolgente lo scrittore nonché social media manager in ambito editoriale e sportivo è noto sui social con lo pseudonimo di antipatia gratuita ed è seguito da oltre 500 mila persone vincitore della terza edizione del premio leggo quindi sono con il romanzo non contate su di me pubblicato da Watson ospite della prima edizione della rassegna letteraria pagine d'autore con il romanzo andrà tutto bene sempre pubblicato da Watson anche questa volta non delude i suoi lettori. Questo libro l'ho letto con tantissima emozione per la scrittura particolare è molto curata e la trama hanno scontato e poi c'è anche il giusto brivido. Si parte da un incipit che ha qualcosa di meraviglioso e di fiabesco ed è di forte impatto emotivo. C'era una volta, si torna indietro nel tempo per poi tornare in un presente, ritornare in un presente che nessuno vorrebbe mai vivere. Antonio Stiena con questo romanzo affronta la tematica del bullismo ma tocca anche tanti altri aspetti della vita quotidiana e adolescenziale quindi la solitudine, l'amicizia, la rabbia, la ricerca della propria identità, il rapporto genitoriale e tanto e tanto altro. Una leggenda misteriosa scuote un intero paese ed è la leggenda dell'avvinto che nella notte dei tempi ha osato sfidare la morte e allora c'è un'usanza particolare in questo paese. Anche per i ragazzi diventa un rito da dover superare, quello di entrare di notte nel cimitero e di dover sfidare e deridere l'avvinto. Solo in questo modo si potrà diventare grandi. Anche Marco Torre che frequenta le scuole medie viene sfidato dai suoi compagni di classe a compiere questo rito. Per Marco Torre questa sarà una prova davvero ardua e difficile ma del resto che cosa ha da perdere? Marco Torre vive una vita un po' difficile che non gli piace, è un ragazzo un po' timido, introverso, ha un rapporto conflittuale anche con la madre che sembra non comprenderlo più di tanto. Quello che conta per Marco Torre è essere accettato da questo gruppo di compagni che continua sempre a deriderlo e intanto in lui cresce sempre di più una rabbia che sfoga con un pinocchio di legno che gli fa compagnia nella sua cameretta ed è l'unica traccia dell'esistenza del padre. La trama di questo romanzo è sapientemente costruita e originale e la prosa si muove tra il detto e il non detto e coinvolge il lettore dalle prime pagine, dalla prima pagina fino ad un finale che è geniale più che mai. Nel romanzo poi ci sono due storie parallele, nei capitoli si alternano due personaggi, ad accompagnare la storia di Marco c'è anche un'altra storia non meno importante che quella del custode del cimitero che è un uomo misterioso e anche molto solitario. L'incontro, anzi lo scontro tra questi due personaggi sorprenderà il lettore. Io ancora ci penso all'originalità di questa storia che ti scava, ti percuote, ti fa male ma fa anche tanto bene all'anima perché ti fa diventare grande. È un bellissimo romanzo di formazione che dovrebbe essere letto da tutti e non solo dagli adolescenti. Marco Torre non cerca risposte, cerca, cerca silenzio. Essere invisibili agli occhi del mondo comporta anche sofferenze interiori che non sempre sono facili da curare, da rimarginare, però questa storia insegna che ci si può rialzare, si può crescere, si può essere migliori e soprattutto si può credere in se stessi e soprattutto circondarsi di persone per bene. Infatti dice devi circa in quarta di copertina, devi circondarti solo di persone per bene, non posso, sarei solo. Essere soli non è male, essere circondato dalle persone sbagliate è molto peggio. E allora non mi resta che augurarvi buona lettura con Chiodi di Antonio Schiena. Se volete seguitemi sul mio blog www.paginedautore.it oppure scrivetemi alla mia mail oppure se volete mi trovate sui social Facebook e Instagram. Buona lettura!